Ciao e bentornati dal vostro Lorettec. In questo video vedremo come installare le applicazioni su questo TV di mezzo, un Android TV, ma direi di non perdere l'altro tempo e di cominciare subito. Allora chiaramente la prima cosa da fare è avere già collegato a internet la nostra TV, cercate il Google Play Store, cliccate e lo aprite, questo ci permetterà di visualizzare un elenco di applicazioni compatibili. Se utilizzi Google Play accetti i termini di servizio di Google Play, accetto, è comparso qui la voce Google Play, chiaramente la velocità dipende dalla vostra connessione a internet. Come vedete abbiamo un bel po' di applicazioni, rimane registrato in ogni caso il vostro account, quindi avete bisogno di un account Gmail per poter eseguire questa funzione. Andiamo a scaricare in questo caso Rai Play, cliccate Rai Play per Android TV, scopri la nuova app Rai Play per Smart TV. Nella sezione On Demand il ricco e nuovo catalogo organizzato per tipologie e generi, potrai scegliere i contenuti di tuo interesse. Clicchiamo su installa, verifica da Play Protect, in attesa, chiaramente anche qui la velocità di download e installazione dipende dalla vostra connessione. Installazione è terminata, clicchiamo su apri utilizzando l'ok del telecomando e l'applicazione si avvia. Attraverso internet è possibile senza utilizzare l'antenna poter accedere. Noi facciamo in questo caso continuo senza account, poi potete in ogni caso fare l'account. Anche qui la velocità dipende sempre dalla vostra connessione a internet. Allora ragazzi come avete visto in pochi semplici passaggi è possibile installare tutte le applicazioni presenti sul Google Play Store. Le troverete poi qui, potete decidere in ogni momento di spostarle in base alle vostre preferenze. Adesso voglio sapere la vostra, installate delle applicazioni nelle vostre TV, che TV utilizzate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi. Da Mets, Google Play e Loretec da tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! 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 Ciao!